si aprono le gabbie partite le cavalle della terza corsa dall'interno ladri di bicicletta al suo esterno accarezzami buona la partenza anche di Cypressus Point e della favorita Royal Fontaine in quarta e quinta posizione si sistemano Camacho Rose e saluta tutti mentre in coda al gruppo troviamo anche la stessa Ferenice ritmo non esagerato con accarezzami che si è incaricata definitivamente di fare l'andatura saluta tutti che ha superato qualche rivale si porta alla sella della battistrada in terza la giubba Clicine e quella di Cypressus Point che lascia in quarta la favorita con la giubba rossa vale a dire Royal Fontaine con all'interno ladri di biciclette con la giubba bianca e verde e poi a chiudere il gruppo troviamo Camacho Rose e all'interno Fenerice Ferenice Carlo Fiocchi su saluta tutti si guarda alle spalle alla fine prende l'incombenza e l'iniziativa con la testa presa dopo poche centinaia di metri seconda posizione per Cypressus Point poi accarezzami ladri di biciclette Ferenice Royal Fontaine e chiude il gruppo Camacho Rose si sta andando piano tanto che Royal Fontaine non vuole cedere all'aspetto tattico e quindi ha dato una prima accelerazione anticipando le avversarie è rimasta un pochino sacrificata in questa fase Cypressus Point poi al suo esterno si presenta subito ladri di biciclette che si trascina la grigia vale a dire Camacho Rose che lascia in coda la stessa Ferenice siamo alle intersezioni delle piste si comincia ad andare un po' più sul ritmo con saluta tutti ancora davanti attaccata da Royal Fontaine poi dal centro la pista tentano di venire avanti tanto ladri di biciclette quanto Camacho Rose all'interno ci prova ancora a carezzami e Cypressus Point con gli ultimi 400 metri da percorrere ancora saluta tutti in vantaggio nei confronti Royal Fontaine dall'esterno c'è stato l'attacco di Camacho Rose che passa in vantaggio a 200 dal palo saluta tutti che cerca di mantenere qualcosa saluta tutti all'interno di Camacho Rose questi due che si staccano definitivamente in lotta Carlo Fiocchi all'interno che si difende da Salvatore Basile Carlo Fiocchi in sella saluta tutti vince al terzo tentativo a seconda la grigia Camacho Rose e per il terzo Royal Fontaine vince dunque saluta tutti 2,73 la quota al totalizzatore 3 invece la quota fissa sul campo per la figlia di Golden Horn che dunque coglie la vittoria al terzo tentativo i colori sono quelli della scuderia Blueberry training è quello di Alduino e Stefano Botti glasses off da parte di Carlo Fiocchi che nelle fasi finale è in totale controllo 8-2 e per il terzo il 7 da Capanelle è tutto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti